Tourit 2012, ancora protagonista da Di Vico, questa volta nello stand di Jotty Line, con un'anteprima assoluta, il Terry T36 Evolution, semintegrale con letto basculante. Allora, vogliamo capire quali sono le particolarità di questo mezzo? Sì, come si può ben vedere il T36 è già un modello nuovo, semintegrale, uguale al Terry classico, mentre l'Evolution si evidenzia dal discorso che ha una bella tappezzeria dedicata, perniciatura dal video che si può vedere metallizzato, ha tutto il mobilio diverso con le ante tutte in ciliegio, serigrafia anche quella ben visibile dall'esterno, ha un bel oblo panoramico fisso sulla testata anteriore, frigo alto, automatico, con forno integrato, ha tutte queste varianti che si evidenziano appunto come dicevo dal T36 Classio Terry. E cos'era un botto? No, c'è pochissimo di differenza che è solo una questione di, come gli ho detto, solo queste piccolezze che il camper lo abbellisce molto di più, è molto più ricco e il prezzo è quasi invariato al quello classico. Grazie. Prego. Grazie. 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 Grazie.